Sicuramente rispetto al passato c'è un problema di giovani in Italia, non è un paese per giovani, sono il 24% degli utenti dei centri di ascolto contro il 7% degli anziani, quindi vuol dire che c'è un rapporto di 1 a 3, stanno invecchiando le situazioni di povertà e va bene, ci sono problemi di pensione sociale per gli anziani, ma i giovani sono privi di lavoro, di fonte di reddito, sono precari, ritornano in famiglia e quindi tra i 18 e i 34 anni cominciano a affollare anche i centri di ascolto. A questi giovani italiani privi di lavoro e di orizzonte e di futuro si sommano anche i giovani stranieri, stanno arrivando ormai in Italia a causa dell'emergenza umanitaria molte persone, quindi siamo quasi 20.000 profughi, rifugiati, chiedenti esilo accolti nelle strutture ecclesiali, ma 7.000 di questi si rivolgono ai centri di ascolto per chiedere un aiuto, quindi vuol dire che non sono dei fantasmi, ma giunti in Italia hanno ancora bisogno di aiuto e queste 7.000 persone sono spesso anche senza dimora o in povertà estrema, il che vuol dire che le risposte fino ad oggi disponibili per il sostegno al reddito di queste persone in fuga dalla guerra sono sicuramente insufficienti. Quindi non basta la crescita del PIL per risolvere il problema della povertà in Italia e della crisi economica? Certamente questo è un dato che non legge le situazioni complesse della povertà, non legge la filigrana, l'infrastruttura delle relazioni sociali, c'è una povertà di capitale sociale, di relazioni, di welfare, si sta andando forse nella direzione giusta adesso con un sostegno per l'inclusione attiva che aiuta le famiglie con figli minorenni, però noi abbiamo visto che gran parte della povertà riguarda giovani 18-34 o rifugiati richiedenti asilo e sono due categorie non coperte dall'attuale sistema di welfare. Stiamo tornando un po' a una situazione simile a quella precedente, alla crisi economica. Prima della crisi economica tradizionalmente erano più gli stranieri che si rivolgevano alla Caritas e meno gli italiani e così anche nel sud, più italiani invece che stranieri. Durante la crisi economica sono aumentati moltissimo gli italiani, nel corso degli anni aumentano le famiglie italiane, le situazioni di povertà nazionale. Adesso stiamo tornando invece a un'inversione di tendenza, diminuiscono, per così dire, gli italiani, diminuiscono le famiglie, almeno 8% di famiglie tradizionali che si rivolgono alla Caritas, quelle famiglie tradizionali che si rivolgono alla Caritas a causa della crisi economica. Meno 8% di famiglie tradizionali, più 8% di giovani e più stranieri che aumentano dell'1,3%, il che vuol dire che stiamo tornando un po' a una situazione precedente a quella dell'onda della crisi economica. Sicuramente il SIA è uno strumento economico che in questo momento è categoriale, rivolto a un soggetto particolare che è quello della famiglia con minorenni all'interno, con soggetti disabili o donne in stato di gravidanza e ISE è inferiore ai 3.000 euro l'anno. Però è sempre una misura categoriale, non sarebbe stato male partire da un approccio più generalistico, cioè tutti coloro sotto una solita povertà assoluta, a prescindere dalle categorie. Comunque è un passo in avanti importante, bisognerà estenderlo nel tempo e includere questa misura, attraverso opportuni correttivi, in un piano nazionale di lotta alla povertà, che è quello verso cui carità strana spinge e che cercheremo di monitorare nel corso degli anni come verrà estesa sia la misura economica che il piano.